Come hai capito che scrivere è la tua vocazione, quello che vuoi fare nella vita? Era la cosa che mi veniva più spontanea, diciamo che ogni volta che ho un pensiero o un'opinione mi viene subito da metterla su carta. E invece tu come hai capito che era appunto il tuo modo di rapportarti con gli altri YouTube e soprattutto come fai ad essere così spontanea? Allora, come faccio ad essere così spontanea? Forse perché mi sembra proprio di parlare esattamente con una persona, quindi per me non esiste il problema del... È uno schermo e non sto parlando con nessuno, ma mi sembra proprio di parlare veramente con le persone, quindi per me è uguale. E poi come l'ho capito, non lo so, mi sono buttata appunto, ho detto dai faccio questo primo video, l'ho caricato, pian piano ho iniziato a piacermi sempre di più e ora penso che non mi vedrei più senza YouTube, cioè non so come dire, c'è proprio un aspetto che fa parte integrante di me. Grazie. 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 Grazie.